A tavola con il sovrano della cucina italiana, tre celebri chef, un sommelier e un affermato pianista. Ciò che si annuncia durante la serata di giovedì 5 dicembre a Ristoranti Imperfetto nella frazione taverna di Cantalupo nel Sagno è un evento gourmet inebriante, riservato agli intenditori e ai palati raffinati. Un'esperienza artistica e culturale congeniata per far immergere i commensali in un viaggio sensoriale attraverso piatti della tradizione esaltati dal sapore profumato del tartufo bianco pregiato raccolto nei boschi del Molise. Le deliziose ricette sono elaborate dai fratelli Simone e Alfredo Pitti, chef conosciuti e stimati negli ambienti della ristorazione regionale, ideatori del Gran Gala del Tartufo, appuntamento tutto molisano che si replica anche quest'anno con l'ingresso nel team della cucina dello chef Alessio Orlando. Il menù di 12 portate è accompagnato da vini di prestigiose cantine piemontesi, accuratamente selezionati dal sommelier Giuseppe Di Gielsi. Il qualificato ed esperto professionista ne illustrerà le peculiarità e gli opportuni abbinamenti con le pietanze in scena. L'affascinante serata nelle accoglienti sale dell'antico edificio padronale sarà impreziosita dal pianista, tastierista e compositore Francesco Cipullo, esecutore di tanti generi musicali, dal rock and blues al funk e alle varie declinazioni del jazz. Il Gran Gala del Tartufo Bianco, come già accaduto nell'edizione precedente, si avvia verso il sold out, necessaria quindi la prenotazione per accapararsi gli ultimi posti, occasione unica per scoprire a un prezzo equo la proposta enogastronomica di questo meraviglioso angolo del Matese custode di autentiche prelibatezze. Grazie 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 Grazie